Due incendi dolosi nel giro di un'ora e mezza alle prime luci dell'alba in centro storico a Fano. Sono le sei di questa mattina. Il primo ad essere preso di mira è il ristorante Bella Napoli, che ha visto andare in fiamme la sala in veranda. I pompieri coinvolti nei due incendi hanno rinvenuto una bottiglia di grappa, forse utilizzata per appiccare l'incendio. Da registrare anche che nella cassa sono stati prelevati dei soldi. A distanza di pochissimo tempo sono le 7.30, il secondo incendio, questa volta in Via Nolfi, a soli 500 metri di distanza dalla Bella Napoli. A finire in fiamme questa volta è stato il locale Tiravino, il più colpito con danni strutturali. Qui hanno dato fuoco alla sala del primo piano e quella del piano terra. Sul posto sono intervenuti la polizia scientifica, la volante del commissariato, la polizia locale, oltre i vigili del fuoco di Fano. Con questi gravi episodi si aprono scenari inquietanti in città. Due ristoranti presi di mira, uno dopo l'altro. Con queste modalità fanno pensare al peggio. Ma per ora si possono fare solo ipotesi. Spetterà dunque agli inquirenti a cercare di capire chi e che cosa possa esserci dietro a questi episodi criminosi. Grazie a tutti.